ciao benvenuto a questa video analisi su ethereum e sarà un'analisi velocissima ho avuto una colica renale ho passato la notte al pronto soccorso non ho dormito niente sono stanco o male voglio mantenere fede e impegno a un'analisi completamente gratuita che sta facendo guadagnare un sacco di soldi e perché ricevo apprezzamenti da parte degli utenti e ma nonostante tutto nonostante sia gratuita voglio mantenere fede a tutto sempre una volta che vedi una mia analisi io sono paolo pisino dal 2007 faccio trading da otto anni da sbogo comunica attività ti invito a visitare il sito tradingpertutti.com che è il mio sito dove ho messo 10 anni anzi 15 anni della mia esperienza e dieci anni solo per quanto riguarda l'analisi ciclica registrati al canale telegram gratuito per partecipare attivamente alla mia piccola community di trader che fanno trading ok dove non ci sono articoli scoppiazzati in giro ma si parla proprio di trading e anche di macroeconomia ed è una cosa davvero molto interessante invito anche a visitare il corso di analisi ciclica 41 ore di formazione per imparare a lavorare con i cicli il corso di analisi volmetrica è l'indicatore appunto vol time che quello che vedi regolarmente nella mia analisi che permette di selezionare tutti i cicli che si vogliono da un ciclo solo fino a un'onda composta da tutti i cicli che noi vogliamo vedere insieme sul mercato performance sarà segnali se sarà ricerca di segnali sugli indici intraday e anche multiday 1.234 punti sul nasdaq o 180 punti sul dax 35 sul da unico operazione marzo un po' del cavolo momento 87 punti nasdaq 115 dax non veniamo all'analisi sarà l'analisi veloce sommaria non sto a perdere troppo in ghi rigori siamo nella fase ribassista del 580 giorni che vede da il suo minimo intorno al primo di aprile abbiamo anche però lo vediamo il minimo nel ciclo 20 giorni che intorno al 19 di marzo quindi abbiamo tutta quest'area dal punto di vista temporale tutta questa fascia temporale di circa una quindicina di giorni che un importante area di minimi quindi momento che cosa dobbiamo fare il ciclo 40 giorni vediamo arrivato al momento sul suo capolineo però se andiamo a mettere insieme anche il ciclo da 20 giorni in realtà la sommatoria ci restituisce ancora una spinta ribassista il problema qual è il problema il problema è che bisogna aspettare ormai a rottura di 1.359 e poi la sua rottura andrà dritta dritta a centrare come prossima era di target la trend line del ciclo a 20 settimane che è molto importante quella che partita il 19 di giugno del 2022 e si è formata il 23 novembre 2022 lettera in ciclica a differenza delle tre online che probabilmente si è abituato a tracciare che hanno un valore previsionale che è prossimo allo zero nel senso che dobbiamo tracciarne sempre 5 6 7 8 e poi quando viene rotta diciamo ecco visto come ha funzionato la rottura oppure la tracciamo perché deve tenere viene rotta subito quindi ne andiamo a mettere un'altra le tre line cicliche sono oggettive il problema della trend line che siamo abituati a lavorare normalmente in analisi tecniche che sono soggettive le tracciamo per cercare di dare una conferma a quello che noi stiamo vedendo ma se allarghiamo diminuiamo lo zoom con la trend line da ribassista diventa rialzista perché anziché in un trend ribassista diventa soltanto magari un ritracciamento di un trend a rialzo ok quindi non è più un trend a ribasso ma sono un ritracciamento invece una trend line è ciclica possiamo ridurre aumentare lo zoom quanto vogliamo sono tracciate su regole cicliche quindi unendo massimi cicci e minimi cicci precisi con regole precise e quindi ci danno sempre un'unica informazione che è quella di determinare l'avvenuto cambiamento di trend e confermare il massimo il massimo precedente quindi una volta rotta la tre line non si va a ritracciare dieci volte per farla funzionare una volta rotta finita non vale più abbiamo avuto una bella rottura della tre line del ciclo a 80 giorni rottura ritest e discesa e bisognerà vedere come reagirà il mercato sulla tre line ovviamente a 20 settimane quindi siamo in una fase totalmente ribassista attendiamo 1.359 come rottura e come possibili area di target la stessa trend line che ti invito andare a tracciare anche sul tuo e il tuo grafico se vogliamo anche ad aggiungere un livello di prezzo che male non fa sicuramente mai potrebbe essere in caso di rottura ovviamente della trend line del ciclo a 20 settimane l'alto supporto 1.063 il tutto con chiusura totale dell'operatività e della probabile fase ribassista nella data del minimo del ciclo 80 giorni prevista intorno al 31 di marzo 2023 con questo è tutto come sempre se ti è piaciuta l'analisi ti chiedo di mettere un like ti chiedo scusa per la brevità ma penso che tu possa capire che non si sta proprio bene dopo che si hanno avute delle coliche ai reni con questo tutto ti auguro una buona serata ciao ciao